Buonasera, buonasera, ancora ben trovati sul canale di Toscana. Come anticipato abbiamo ospite per questa sera, per il nostro approfondimento post-TG, il professor Giovanni Minucci, scienze politiche internazionali del Dipartimento dell'Università di Siena. Il professor è con noi per una testimonianza importante. Oggi si è tenuto proprio nell'aula a Cardini, all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali e nell'ambito del corso di storia dei rapporti della Stata Chiesa, un incontro importante, quello fra il presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, già arcivescovo anche di Bologna, e il cardinalo Iudice, arcivescovo della nostra diocesi. Un tema complesso, il titolo dell'incontro, un tempo complesso per l'Italia e la Chiesa tra migranti e guerre in Ucraina. Professore, allora è stata una mattinata densa di significati, di spunti, ovviamente di riflessione che i due cardinali hanno posto alla platea dei vostri studenti, ma poi erano presenti ovviamente anche tantissime persone extra università nel tavolo di introduzione, ovviamente siede Valencia, ma il rettore della nostra università. Ci racconta un po' una sintesi di questa mattinata? Sì, brevemente, allora innanzitutto io sono qui perché sono il decano del Dipartimento, quindi il professore ordinario più anziano, ahimè il direttore purtroppo è dovuto andare via e quindi ha lasciato me a presiedere questa bella e interessante riunione. Il titolo è molto significativo e come ha ricordato il magnifico rettore, il professor Roberto Di Pietra, che ha voluto sottolineare il tema della complessità, cioè siamo in un'epoca nella quale ci sono questioni complesse alle quali bisogna dare delle risposte e le risposte alle questioni complesse non possono essere semplici e tanto meno semplicistiche, ma bisogna appunto dare risposte complesse e l'università è il luogo nel quale le questioni complesse possono e debbono essere affrontate. E allora ecco l'idea dell'amico e collega Massimo Bianchi che nell'ambito del suo corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa ha inteso, come dire, invitare sua eminenza a Matteo Maria Zuppi, appunto arcivescovo di Bologna, come ha ricordato, e insieme al nostro arcivescovo il cardinale Augusto Paolo Iudice per affrontare questi due temi. Il cardinale Zuppi si è soffermato in particolare, lui ha una grande passione, lui ha scritto, se qualcuno se lo ricorda, una lettera alla Costituzione. Due anni fa eravamo in piena pandemia sostanzialmente e ha sottolineato l'importanza di due articoli della Costituzione, che tu ricordi benissimo per i tuoi studi, cioè l'articolo 3 e l'articolo 11, l'articolo 3 che è l'articolo che riguarda l'uguaglianza e il programma che i costituenti si dettero e inscrissero in quell'articolo è un articolo centrale e fondamentale, perché è un programma non ancora realizzato, peraltro, perché tra l'altro il cardinale stamattina ci ha ricordato che le disuguaglianze negli ultimi dieci anni sono sostanzialmente raddoppiate, quindi non solo non si sono ridotte, ma sono aumentate. E l'articolo 11 che è quello appunto nel quale si dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, che evidentemente ha le sue scaturicini nel fatto che noi uscivamo da un secondo compito mondiale molto pesante, non solo per l'Italia, ma per l'Europa intera e non solo, e quindi ha inteso soffermarsi su questo, come? Facendo un'analisi in qualche misura che è quella che ci si aspetta da un pastore della Chiesa, cioè vedere in prospettiva quello che occorrerebbe fare, sottolineando soprattutto l'aspetto dialogico che ci deve essere tra le istituzioni ecclesiastiche e le istituzioni dello Stato naturalmente, per lavorare insieme. Lui ha fatto riferimento alla sinodalità, cioè a questa orizzontalità, cioè la Chiesa non è più esclusivamente verticale, lo è, lo sappiamo, ma è molto orizzontale, cioè la presenza del popolo di Dio che è un popolo che vive all'interno della Chiesa, ha la sua esperienza ecclesiale, ma ovviamente vive anche nella società civile e quindi essere in qualche modo lievito per affrontare queste tematiche. Ecco, allora in questa maniera il rapporto fra lo Stato e la Chiesa non è più solo un rapporto, come ha detto lui, fra la Santa Sede e il Quirinale con una battuta, ma è un rapporto, come dire, che si lievita letteralmente all'interno della società. Questo un po', diciamo così, molto brevemente, naturalmente è un riassunto molto sommario, ma è sembrato molto interessante cogliere questo profilo. Naturalmente si è soffermato anche sui temi della guerra, individuando con assoluta chiarezza che c'è un aggressore e un aggredito, ma ha anche sottolineato il fatto che non bisogna parlare di idealismo della pace, invece è l'idea della pace che deve essere al centro dell'umano, perché se non c'è la pace, il contrario della pace è la guerra, come dicevano i romani, si vis pacem parabellum, cioè prepara della guerra se vuoi la pace, minacciando il nemico, ma queste minacce, la minaccia nucleare che ogni tanto si ripresenta, è pur vero che dopo Hiroshima e Nagasaki non c'è stato più nessun evento gravissimo naturalmente di questo genere, però solo parlarne, insomma non lo ha detto lui ma lo dico io, il dottor stranamore può essere dietro l'angolo e quindi bisogna stare molto attenti, quindi il tentativo continuo che ci deve essere di trovare le vie della pace, di cercarle e questo è il compito che il Santo Padre si è dato e lo sta facendo reiteratamente e quindi i pastori della Chiesa come lui che è responsabile poi della conferenza episcopale italiana naturalmente sente fortemente questo impegno e questa è stata un po' la sua testimonianza, molto in breve naturalmente è stato più profondo. Tra l'altro c'è stata un'introduzione che ha destato un applauso, un sorriso da parte di tutti i presenti, da parte di Don Vittorio Gigli che è responsabile della comunicazione della nostra arcidiocesi, quando ha presentato ovviamente il relatore, il candidato Iudice e il presidente della CEI, l'ha descritti come la verità, come due persone che hanno una lunga amicizia, hanno una grande stima reciproca e ha fatto poi la battuta di dire che uno dei due sarà forse il futuro nostro Papa. Sì, in realtà è arrivata una mail, non ha detto da parte di chi naturalmente, che però da come l'ha letta mi sembrava che avesse un accento romanesco in cui sottolineava l'esperienza di entrambi che vengono da esperienze parrocchiali romane fatte nelle periferie come sappiamo bene, ovviamente lo sappiamo molto bene per il cardinale Iudice ma lo sappiamo anche perché la stampa ce lo racconta di Matteo Maria Zuppi e quindi poi appunto diceva guarda un po' che succede questi due che sono partiti dalle borgate e se li ritrovamo mi sembra di aver capito così vestiti da cardinale e chissà che uno dei due un domani non si vesta del bianco, questo era un po' il tono sì, quindi questo come dire, per chi crede c'è lo spirito santo che illumina il collegio cardinalizio, quando succederà speriamo il più tardi che sia possibile, ovviamente perché il Santo Padre abbiamo notizie fresche che insomma sta molto meglio, quindi evitiamo di parlare di questo tema anche se è un tema che ritorna continuamente per via delle dimissioni, peraltro dico una cosa, il 20 giugno all'Accademia degli Intronati presenteremo un volume proprio sulla rinuncia del Pontefice, che è un volume storico ma è anche un volume degli Urecondendo, quindi insomma ci sarà anche questo. L'altra cosa invece, non si sono divisi i compiti ma è finita così, il cardinale Loiudice invece ha parlato delle migrazioni, lui si è occupato di questo tema affrontandolo da par suo perché è un tema che lui conosce molto bene, che gli sta molto a cuore, naturalmente ha sottolineato tutta una serie di aspetti che andavano sottolineati e cioè il fatto che sostanzialmente quali sono le ragioni delle migrazioni, poi ce le ha raccontate un po' tutte che non sono solo i motivi economici, sono i motivi climatici, sono i motivi bellici, cioè il fenomeno migratorio in realtà ha sempre caratterizzato la storia dell'umanità, per motivi più diversi, quelli risalenti a millenni fa, gli studiosi forse ci dicono qualcosa, quelli più recenti magari li possiamo conoscere e individuare meglio, quindi sono fenomeni che vanno governati, questo è il tema vero, vanno governati come? Vanno governati, per esempio l'esempio è stato quello dei corridoi umanitari, per esempio che è qualcosa che è emerso per esempio dalla comunità di Sant'Egidio e anche dalle comunità riformate, protestanti, quindi c'è anche qui una sinergia da parte delle chiese per muoversi, ma è chiaro e evidente che ci sono delle responsabilità, anche certi paesi che abbiamo in qualche modo, lo dico tra virgolette, sfruttato per un lungo periodo e quindi con cui abbiamo fatto affari, questo poi sostanzialmente dicevano, poi alla fine quando non servono più magari li abbandoniamo o assumiamo atteggiamenti persecutori nei confronti di quei governi con i quali i rapporti si sono lesionati e ovviamente ci sono paesi che non hanno governi, si pensa la Libia, si pensa la Siria, si pensa la situazione dell'Afghanistan, io non sono uno specialista in relazioni internazionali, ma insomma questo è sotto gli occhi di tutti, vediamo cosa succede non solo nel Nord Africa, ma anche nell'Africa subsahariana, insomma sono problemi e rischiamo veramente che questi popoli si spostino in massa, perché sono alla ricerca di una speranza, di un futuro e che fare? Qui c'è la responsabilità della politica che non è solo la responsabilità, era il loro parere ma è anche il mio, della politica italiana, ma è anche una responsabilità della politica europea, qui hanno fatto riferimento ai padri fondatori dell'Unione Europea che avevano un'idea di fondo e hanno fatto riferimento anche ai pensatori che hanno dato vita anche alla nostra Costituzione, quindi queste idee ci sono ancora, le vogliamo far riemergere? Questo è il tema, quindi non è stato un discorso come era giusto che fosse diciamo così di partito assolutamente, ma è stato un discorso di ideali, cioè di prospettiva, dobbiamo lavorare per costruire un'Europa che sia naturalmente più equa, più giusta, più solidale sotto tanti punti di vista, ma che esprima anche queste solidarietà all'esterno, perché altrimenti questi fenomeni non vengono governati, questo era il loro pensiero che io molto modestamente condivido. Sta per finire il tempo a nostra disposizione, pensando a un nuovo incontro con il Cardinalo Iudice e il Presidente Lacei, quale sarebbe un altro tema su cui avrebbe piacere sentire? Ma io li vorrei sentire, ma questa è una mia curiosità personale, sulle loro esperienze di pastori delle origini, cioè i primi anni da sacerdoti, questo mi incuriosisce molto perché facendo lo storico e qui si vede la deformazione professionale, per capire l'oggi noi dobbiamo guardare a ieri sempre, dobbiamo ricostruire la storia e forse possiamo ricostruire la personalità di questi pastori che sono veramente, io conosco abbastanza bene il nostro arcivescovo perché ovviamente per quello che faccio ci collaboro, ovviamente non conosco il Cardinalo Zuppi, ma sono convinto che se ci raccontassero quello che hanno fatto quando hanno cominciato la loro attività pastorale forse noi riusciremmo a comprendere meglio, a apprezzarli meglio e forse anche a seguirli meglio perché secondo me sono persone che sono in grado, sono pastori che hanno l'odore delle pecore come dice il Santo Padre, cioè stanno davanti, stanno in mezzo, stanno dietro, questo non è piageria è quello che io penso e al Cardinalo Iudice gliel'ho anche detto personalmente professore io la ringrazio per la sua testimonianza, volevamo appunto approfondire questa giornata importante che si è attenuta all'interno dell'Ateneo di Siena, avete sentito le dichiarazioni dei due relatori nel corso del nostro giornale, ringrazio quindi sentitamente il professor Minucci un saluto ovviamente a tutto il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, al nostro rettore Di Pietra e ovviamente a Massimo Bianchi che ha introdotto la relazione dei due cardinali grazie al professore ancora, grazie a voi per averci seguito, io vi auguro una buona continuazione di serata con i nostri programmi